Salve ragazzi, io sono Cassoro e io sono Croce e ben rinnovate sul nostro canale ragazzi bene ragazzi questo è un video velocissimo per dire che domani lunedì 25 quindi natale vi regaleremo delle chiavi di due chiavi di rocket league e una di player unknown battleground quindi alle 17 sintonizzatevi sul vostro canale per questo mega giveaway come sempre le che saranno a random nel video quindi vedendo un po il video vi escono random dopo il loot dei case e ve le prendete chi ci riesce prima quello vince bene ragazzi questo video serviva anche per annunciare la collaborazione con hunters ith che vedrete nelle descrizioni del canale vi metterò la descrizione del suo canale nel nostro canale abbiamo fatto una bella collaborazione con fifa 18 che io non so nemmeno che cosa un pallone nel campo non so che cosa però è riuscito a bene ragazzi è riuscito pure un bel video e niente più niente quindi ci siamo qui e ci vediamo al prossimo video un secondo dobbiamo festeggiare il primo vlog del canale eeeeeeee eee o